Il Transgender Day of Remembrance, TIDOR, è una ricorrenza della comunità LGBTQI per commemorare le vittime dell'odio e del pregiudizio anti-transgender, transfobia, un evento che vede da sempre attenti il Consiglio regionale e la Giunta, che anche quest'anno hanno deciso di dare il patrocinio agli eventi collegati. Il principale, la Trans Freedom March, organizzata dal coordinamento Torino Pride, prenderà il via da Piazza Vittorio a Torino, sabato 18 novembre alle 16.30. Il TIDOR è un appuntamento che si rinnova a Torino anche quest'anno. Sì, si rinnova a Torino anche quest'anno e il TIDOR è una ricorrenza per noi importantissima da tantissimi anni. Da quattro anni la celebriamo anche con una marcia, ma quest'anno abbiamo una mostra sotto i portici del Palazzo della Giunta regionale, abbiamo organizzato un sacco di eventi e di iniziative in avvicinamento alle celebrazioni per il TIDOR e alla marcia conclusiva del 18 di novembre. Quindi vi aspettiamo tutti alle 16.30 in Piazza Vittorio, sabato 18 novembre, per celebrare un giorno per la comunità LGBT estremamente importante.